In occasione dell'anniversario dei 100 anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il Centro per la Pace di Bolzano, in collaborazione con Pax Christ Italia, Movimento Non Violento, Mosaico di Pace, Azione Non Violenta, ha deciso di organizzare un convegno internazionale per rileggere la storia dell'inutile strage, come la definì Papa Benedetto XV, e allo stesso tempo ricordare la nascita del Movimento Pacifista e Non Violento, che proprio in quegli anni iniziò il suo cammino attraverso tutta l'Europa. L'anteprima del convegno, dal titolo 1914-2014, mai più la guerra, si terrà venerdì 3 ottobre nella sala di rappresentanza del Comune di Bolzano alle 17.30, mentre sabato e domenica i lavori si sposteranno nella sala convegni del soggiorno alpino costalovara di Renone. Questi 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale, che celebreremo un po' con questo convegno, servono anche all'interno del Movimento per la Pace un po' riflettere sulla situazione che sta incombendo un po' oggi nel mondo, è una situazione triste, drammatica, che chiama in causa appunto le coscienze, soprattutto serve un pochino per fare i conti sulle sfide che abbiamo davanti e sulle possibilità in qualche modo di rileggere questa storia con occhi nuovi, cercando di capire appunto come uscire dall'impasse della cultura e della prassi della guerra che ha scandito appunto per intero tutto un secolo. Numerosi gli ospiti e relatori partecipanti al convegno vi sarà la possibilità di vedere anche la proiezione del film Thaler di nome Franz, l'uomo della pace, e di riflettere su alcune tematiche di strettissima attualità. Il convegno 1914-2014, mai più la guerra, sarà anche l'occasione per dare il lancio alla raccolta firme per la legge di iniziativa popolare volta all'istituzione di un dipartimento per la difesa non armata e non violenta in Italia. La campagna firme partirà ufficialmente il 2 ottobre, giornata internazionale della non violenza.